Previsioni meteorologiche. Si annunciano in centro Italia piogge abbondanti, ma affraschiati grazie alla posa in opera dell'asfalto assorbente e idrotrenante, posto dall'amministrazione dei gattopardi durante la visita del Santo Padre Benedetto XVI, questo problema non lo coriamo. Grazie alla corretta manutenzione di questa tipologia di asfalto dell'aggiunta Alessazio e Scilipoti Party non abbiamo problemi di allagamento, l'acqua viene correttamente assorbita.